Sei alla ricerca di un'opportunità nel settore industriale? La Job Industrial Academy è qui per te! L'Academy, nata dalla necessità di fornire competenze specializzate e sostenere giovani talenti, è un progetto rivoluzionario promosso da JobSPA con oltre 20 anni di esperienza nel campo. Qui puoi trovare una destinazione per il tuo futuro professionale. Offriamo corsi guidati da docenti qualificati che mirano a perfezionare le tue abilità, sia tecniche che comportamentali, garantendo la tua sicurezza sul posto di lavoro. La parte migliore? Il percorso è completamente gratuito per chiunque sia maggiorenne e desideri ampliare le proprie opportunità lavorative. Grazie alla collaborazione con le aziende del territorio, offriamo opportunità di lavoro concrete. Contratto a tempo indeterminato ad inizio del corso, formazione retribuita e alloggi per i non residenti a Ravenna. Se vuoi investire nel tuo futuro o nel futuro della tua azienda, contattaci. Siamo l'Academy di cui hai bisogno.